C'è grande attesa per il derby di Alessandra di lunedì sera, un derby che apre il campionato per il Novara. Andiamo a sentire quali sono le sensazioni di Mr. Bubba alla vigilia del match. L'emozione è tanta, tanta quanto la voglia di iniziare. I ragazzi stanno lavorando molto bene e anche loro non vedono l'ora di iniziare. Mi aspetto un Novara combattivo, un Novara da derby, un Novara che ha voglia di far vedere alla propria gente, a noi stessi, quello che vogliamo fare in questo campionato. Ci saranno tanti tifosi a seguito, è un derby, l'hai appena detto, è una partita contro una squadra che forse sta vivendo un periodo non brillantissimo. Come si affronta? Si affronta pensando a noi stessi, pensando a fare la nostra prestazione, pensando di lavorare per i nostri principi, andando cattivi, passatemi il termine, a cercare quelle che sono le nostre soluzioni per andare a portare a casa il massimo dalla partita di lunedì sera. E un messaggio ai tifosi? I tifosi ho poco da dirgli se non continuare a ringraziarli e non gli chiedo di starci vicini perché voglio che ci stiano vicini perché noi gli dimostriamo che ci devono stare vicini perché ce lo meritiamo. Ciao!